Gran Caffè La Fenice, bar, pasticceria, gelateria, la tradizione e la storia, la qualità dei nostri dolci per soddisfare i palati più fini e per festeggiare le ricorrenze più care. Rosticceria, stuzzicheria, pausa pranzo, l'eccezionalità dei nostri cocktail, creatività e professionalità. Rivendita tabacchi. Ecco le nostre super offerte. Ogni giorno ad 8 euro, menù con primo, secondo e contorno. Fenice colazione. Colazione veloce. Caffè o cappuccino o espressino, più cornetto, più spremuta, 4 euro. Caffè o cappuccino più cornetto, yogurt o spremuta, più cereali con latte, succo a scelta o tè freddo. Tutto questo a 5 euro. Fenice Night, il nostro programma settimanale. Lunedì, serata bollicine. Prosecco più stuzzicheria, 5 euro. Martedì, happy hours fino, 6 euro. Mercoledì, happy hours free. Stuzzichini più bevande, 5 euro. Giovedì, serata spritz party, 5 euro. Venerdì, puccia o piadina o panino più bevanda, 5 euro. Sabato, pre-serata Fenice, dalle 22 alle 2, 3 euro e 50. Domenica, serata tè o cioccolato più pasticcini, 2 euro. Gentilezza ed eleganza, qualità e professionalità al tuo servizio. Gran Caffè la Fenice, via Mediterraneo 30 Taranto.